Cervello tornato! Ispettore Potremmo essere il poliziotto buono e quello cattivo E' un po' strano, no? Quindi lei l'ha baciato e poi è finito tutto lì Mani in alto! Scappiamo, ci sono i poliziotti! Guarda, c'è Timote che stava per andare via, però... Potrei aver cercato di ricattare uno spacciatore per ottenere qualche informazione su Olen State scherzando Vi direi con chi è Timote Nessuno Con me! Essi con me! In realtà ora che lo dici è evidente In prima visione assoluta Non ho vero Morgan Detective Geniale Nuova stagione Questa sera 21.30 Rai 1